Io per la stala al freddo, ognuno pensa su... Amici di Torrita di Siena e dintorni, sono Marco Morandi, ciao a tutti. Vorrei invitarvi sabato sera, 4 marzo, a vedere il mio spettacolo Nel nome del padre, storia di un figlio di... Come potete già capire dal titolo, è uno spettacolo che parla del mio stato particolare, Della mia famiglia particolare, allora ci scherzerò un po' sopra, Si canteranno canzoni che conoscete benissimo Di solito c'è anche una presenza che viene a disturbare lo spettacolo E temo che ci sarà anche proprio sabato sera Ma non vi preoccupate perché so come tenerli testa Comunque ci sarà da divertirsi, da cantare, da ricordare Quindi, 4 marzo, Teatro degli Oscuri, Torrita di Siena, vi aspetto, ciao Queste banane, lampone, chi c'era? Con berinda, innamorata, parla da sola, con una chimera Leggo nel mio diario banane Che anche lontano Tendo la mano E trovo la tua Ma è anche avanzato nel tempo Ma è allora che si può fare di più Si può dare di più Perché è un tempo di noi Si può dare di più Senza essere noi Come fare di solito Non lo sai Ma il tempo si può fare di più Grazie Grazie Grazie